Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzini, questo è un nuovo video che vi spiego come solveri il problema riguardo all'aggiornamento ovviamente se hai problemi ad aggiornare così Windows Update all'ultima versione di Windows 11, versione di 3H2 per i sistemi basati su PS64 ovviamente se hai problemi qua sopra ti esce un tipo di errore che non è stato possibile installare l'aggiornamento però tu supporti così i requisiti per installare così questo aggiornamento come puoi vedere me l'ha scaricato, me l'ha installato e non mi resta che riavviare il nostro, quindi riavviare il sistema ovviamente se hai problemi con l'aggiornamento andiamo un attimo sui servizi, andiamo così sui nostri servizi, scendiamo fino a giù fino a trovare così il servizio di Windows Update come puoi vedere a me il sistema è arrestato, ovviamente faccio su avvia, avvio così questo servizio, tipo di avvio metto manuale, faccio applica e faccio ok una volta fatto con questo andiamo direttamente sul nostro esplora risorse dei file, questo pc, disco locale c, scende fino a giù fino a trovare la cartella Windows andiamo fino a trovare la cartella distribution andiamo fino a trovare software distribution, questo qua, 900 megabyte, clicchiamo dentro e andiamo su download questi sono gli aggiornamenti che abbiamo scaricato, i vecchi aggiornamenti che solamente il download sta qua dentro non c'è nessuna installazione, quindi c'è solamente i download, anche dei vecchi aggiornamenti che hai fatto poi non ti servono più e hai installato quelli nuovi, quindi in questo caso prendili tutti e cancelli così i file una volta cancellato chiudiamo un attimo qua vado di nuovo ad aprire verifica disponibilità aggiornamenti vado su impostazioni, soluzioni e problemi altri strumenti di risoluzione dei problemi Windows Update e faccio esegui ecco che è uscito così il rilevamento dei problemi devi riavviare il computer e successivamente provare a eseguire di nuovo Windows Update quindi in questo caso installiamo così il nostro aggiornamento ti ho lasciato in descrizione così il catalogo di Windows Update ovviamente ovviamente se ti esce un aggiornamento da fare però ti esce anche l'errore che non riesci così a scaricarlo, a installarlo quindi vai a fare copia copia così questo codice, fai copia e lo inserisci qua dell'ultimo aggiornamento, fai la ricerca ricerca degli ultimi aggiornamenti eccolo qua, Windows 11 versione 23H2 per sistemi basati su ARM64 e su Per64 ovviamente qui c'è il Per64 e il Per64 quindi io devo scaricare questo qua vado su Download, quindi scarico clicco su questo link deve finire come .msu se no non puoi scaricare e installare il pacchetto una volta fatto aggiorniamo così la pagina sul desktop quindi aggiorniamo il desktop se no non ti esce così il programmino mi fa solamente installare mi fa solamente aprire e installare il pacchetto preparazione e installazione in corso programma di installazione in corso aggiornamento e apprezzazione di Windows già installato nel computer l'aggiornamento è stato già installato nel computer quindi io posso pure procedere a riavviare il sistema come puoi vedere questi sono gli aggiornamenti che ho già scaricato e installato grazie a Windows Update e quindi sul catalogo ti ho fatto vedere un esempio che se non te lo fai installare puoi sempre usare il catalogo che ti ho lasciato in descrizione faccio ok e faccio annulla una volta fatto quello che mi resta da fare è riavviare il sistema e aspettare poi i prossimi aggiornamenti che rilascerà così Microsoft quindi se hai altri problemi commenta sotto al video ovviamente i trucchi i metodi sono questi riguardo ai servizi a cancellare i vecchi download e riprovare e poi riavviare il sistema e usare la risoluzione dei problemi per capire qual è il problema nel sistema quindi se questo video è stato utilissimo su come risolvere il problema all'ultimo aggiornamento che hanno rilasciato adesso iscriviti, lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao